In occasione della solennità dei Santi Pietre Paolo, martedì 29 giugno, la parrocchia di San Paolo Apostolo al Vallato ha vissuto un importante e tanto atteso momento. La posa della prima pietra della Casa della Comunità che verrà costruita e intitolata Don Paolo Tonucci, sacerdote e missionario della nostra diocesi che ha operato per tantissimi anni in Brasile. I festeggiamenti sono iniziati con la solenne celebrazione eucaristica presiduta dal Vescovo Armando nella piazzetta adiacente alla parrocchia alla presenza di numerosi fedeli, del parroco Don Francesco Pierpaoli, del vicario generale Don Marco Presciutti, di diversi sacerdoti della nostra diocesi, di Monsignor Giovanni Tonucci, giavescovo di Loreto e fratello di Don Paolo Tonucci, del sindaco di Fano Massimo Seri che ha sottolineato come la Casa della Comunità sia il luogo dove ognuno si possa sentire accolto e mai sono e dalle autorità civili del nostro territorio. A seguire la cerimonia ufficiale della posa della prima pietra e le testimonianze sulla figura di Don Paolo Tonucci, il fratello Monsignor Giovanni Tonucci, Don Marco Presciutti che ha vissuto la medesima esperienza missionaria in Brasile, il dottor Roberto Ansuini, presidente dell'associazione Apito che porta avanti molteplici progetti in ricordo di Don Paolo e Marco Gasparini, direttore del centro missionario diocesano. E' stato sottolineato più volte dai presenti come la cosa più importante sia l'attenzione alle persone prima ancora che alle strutture, ecco perché la nuova casa Don Paolo Tonucci dovrà essere un luogo di incontro, di dialogo aperto a tutti non solo ai bisogni del quartiere ma alla città e alla diocesi tutta. La prima pietra posata che è un vecchio tabernacolo della primissima chiesa parrocchiale del quartiere Vallato contiene una pergamena commemorativa di questa giornata che è stata firmata dal Vescovo Armando, da Monsignor Tonucci, dal Sindaco Seri, da una rappresentante del Consiglio Pastorale Parrocchiale, del Consiglio Affari Economici della Parrocchia e un libro con degli scritti di Don Paolo Tonucci. I lavori di costruzione, ha auspicato l'architetto Fabio Ceccarelli, partiranno entro l'autunno e si prevede di completare l'opera entro un anno.